Anno nuovo, strada nuova, sarà così per il tratto toscano, in particolare quello in provincia di Arezzo della E45. Proseguono infatti gli investimenti dell'ANAS per la riqualificazione dell'itinerario complessivo E45 e E55 orte mestre nell'ambito del piano di manutenzione straordinaria avviato lo scorso marzo. Stiamo dando attuazione, ha affermato il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani, al più importante investimento mai destinato a questa infrastruttura, in linea con la nuova strategia di ANAS che punta sulla manutenzione e sulla valorizzazione della rete stradale esistente, per innalzare il livello di servizio e gli standard di sicurezza per la circolazione. Il primo bando di gara pubblicato riguarda in particolare l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale lungo la E45 tra Orte e Cesena, per un valore complessivo di 100 milioni di euro. 15 finiranno appunto nel tratto toscano in provincia di Arezzo, e altri due lotti invece da 15 e 25 milioni nel tratto romagnolo in provincia di Forlì-Cesena.